Ci può fare un po' l'elenco delle derrate alimentari che siete riusciti a comprare e come è avvenuta la raccolta fondi? Allora, visto il perdurare di questa emergenza sanitaria, ci siamo resi conto che all'interno del territorio aretino si sta formando e aumentando nei numeri una crescente emergenza sociale, una nuova povertà. Ci siamo resi conto come Lions che una fascia nuova di persone non riesce più a provvedere ai propri bisogni quotidiani, in particolare anche a comprare genere alimentari e beni di prima necessità. Parlo di persone che improvvisamente, come anziani soli, giovani precari oppure famiglie numerose, ma anche lavoratori che in questi mesi hanno difficoltà nella loro attività lavorativa colpita duramente dalla crisi, a provvedere a se stessi. Noi come Lions abbiamo deciso quindi di, consapevoli della situazione, con Croce Rossa continuare il service banco alimentare. Abbiamo acquistato oltre 6.000 euro di beni di prima necessità e generi alimentari affinché la Croce Rossa possa distribuire gratuitamente pacchi a coloro che magari non hanno accesso ad aiuti tradizionali attraverso i canali istituzionali e dignitosamente però affrontare il quotidiano. Ecco, avete fatto sostanzialmente una scelta, anziché iniziative di altro tipo, avete scelto di acquistare queste derrate alimentari? Dunque, noi come Lions, specificatamente come distretto 108 LA, mai come quest'anno abbiamo voluto implementare questo service che ormai è da qualche anno che ci caratterizza in collaborazione con Banco Alimentare. Però ancora di più quest'anno il distretto 108 LA che io rappresento appunto come circoscrizione ha voluto aumentare questo impegno nel nostro territorio dando una serie di fondi per l'acquisto di beni alimentari ma in più anche inventando un service specifico per la catena del freddo. Che cos'è questa catena del freddo? La distribuzione dei beni alimentari che avviene per questi beni così non deteriorabili con la catena del freddo. Noi ci siamo impegnati ad acquistare un furgone frigo più dei pozzetti che verranno distribuiti in tutto il territorio della Toscana proprio per la conservazione di questi beni alimentari. E devo dire che tutti i club della regione, siamo 92 club, e la settima circoscrizione è rappresentata da 11 club distribuiti nella zona P e la zona Q. Diciamo abbiamo voluto manifestare il nostro entusiasmo e la nostra voglia di partecipazione. Come saranno scelte le famiglie, le persone a cui destinare queste donazioni? La scelta è obbligata perché sono le famiglie che ci segnalano i servizi sociali del Comune di Arezzo. La distribuzione avverrà tutti i giovedì, qua presso il nostro comitato, a queste famiglie. E purtroppo, come diceva il presidente Lyons, gli altri numeri che devono far preoccupare al pari dei ricoveri nelle terapie intensive o dei morti, dei decessi quotidiani per causa del Covid sono appunto l'aumento della povertà. Noi abbiamo avuto un incremento di oltre il 100% tra nuclei familiari e alimenti distribuiti. Solo nel 2020 abbiamo distribuito 20 tonnellate di alimenti a 160 nuclei familiari. Erano esattamente la metà nel 2019. Quindi sostegni come quello che abbiamo ricevuto oggi ci danno ancora più forza e più stimolo di cercare di non lasciare mai nessuno solo. Grazie a tutti.